Dopo tanti appelli e vene promesse hanno finalmente preso il via i lavori di messa in sicurezza dell'arco naturale di Palinuro, del costone roccioso, della spiaggia, del Buondormire e della strada provinciale Mingardina 562, sulla cui carreggiata nei giorni scorsi era finito un grosso masso caduto su un'auto in transito. A confermarlo è stato il sindaco di Palinuro, Romano Speranza, al termine di un sopralluogo con alcuni tecnici del Genio Civile di Salerno. I lavori riguarderanno l'arco naturale da tempo sotto stretta osservazione per eventuali movimenti franosi. All'incontro tecnico durante il quale sono stati programmati gli interventi erano presenti oltre a sindaco Speranza che da tempo aveva abbracciato la causa della tutela dell'arco naturale, simbolo delle bellezze naturalistiche del Cilento, anche il sindaco di Camerota Domenico Bertone e alcuni assessori delle due amministrazioni.